La pozione polisucco Una volta giunti in cima, scesero dalla scala mobile di pietra. La professoressa McGonagall bussò alla porta, che si aprì senza fare rumore. Entrarono, poi la McGonagall disse a Henry di attendere e lo lasciò da solo. Il ragazzo si guardò intorno. Una cosa era certa. Di tutti gli studi degli insegnanti che gli era capitato di vedere fino a quel momento, quello di Silente era senza dubbio il più interessante. Non fosse stato per la paura matta di essere espulso dalla scuola, sarebbe stato entusiasta di dare un'occhiata a quel luogo. Era una stanza circolare, grande e bella, piena di rumorini strani. Su alcuni tavoli, dalle gambe lunghe e sottili, erano posati molti curiosi strumenti d'argento, avvolti in nuvolette di fumo. Le pareti erano ricoperte di ritratti di vecchi e vecchie presidi, garbatamente appisolati, nelle loro cornici. C'era anche un'enorme scrivania con i piedini a zampa di leone e dietro, su uno scaffale, era poggiato un cappello da mago, frusto e stracciato. Il cappello parlante. Il ragazzo esitò. Gettò un'occhiata circospetta ai maghi e alle streghe addormentati tutti intorno, sulle pareti. In fondo che male c'era se prendeva il cappello e se lo metteva in testa un'altra volta. Solo per vedere, solo per accertarsi che lo avesse effettivamente assegnato alla casa giusta. Piano, senza far rumore, passò dietro alla scrivania, prese il cappello dallo scaffale e cautamente se lo mise in testa. Il cappello era troppo largo e gli scivolò fin sopra gli occhi, come era già accaduto quando lo aveva indossato la prima volta. Harry rimase lì in attesa, fissando la fodera nera. Poi una vocina gli disse, «Pulce nell'orecchio, eh, Harry Potter?» «Ehm, sì», mormorò lui, «ehm, mi spiace disturbare, volevo chiedere...» «Ti chiedi se ti ho messo nel posto giusto», disse il cappello con grande perspicacia. «Sì, devo ammetterlo, è stata una decisione particolarmente difficile, ma rimango del mio parere». Il cuore di Harry gli balzò in petto. «Saresti stato benissimo tra i serpeverde». Il ragazzo si sentì mancare il respiro, afferrò il cappello per la punta e se lo tolse. Quello gli si afflosciò tra le mani, sudicio e consunto. Lo rimise sullo scaffale. Aveva la nausea. «Guarda che ti sbagli», disse ad alta voce, rivolto al cappello, che ora, immobile e silenzioso, giaceva sullo scaffale. Ma quello non si mosse. Harry arretrò di qualche passo tenendolo d'occhio. Poi, un suono gutturale alle sue spalle, lo costrinse a voltarsi. Allora non era solo. Su un trespolo d'oro, dietro la porta, stava appollaiato un uccello dall'aria decrepita, che assomigliava terribilmente a un tacchino spennacchiato. Harry lo fissò e quello gli restituì un'occhiata minacciosa, continuando a fare il suo verso gutturale. Harry pensò che aveva un'aria molto malandata. Il suo sguardo era opaco e, mentre Harry lo fissava, gli cadero un paio di penne dalla coda. «Ci manca solo che l'uccello preferito di Silente decida di lasciarci le penne proprio mentre sono qui con lui da solo», pensò il ragazzo. E in quel preciso istante l'uccello prese fuoco. Fuori di sé, Harry lanciò un grido e indietreggiò verso la scrivania. Si guardò febbrilmente intorno, nel caso da qualche parte ci fosse un bicchier d'acqua, ma non ne vide. Intanto l'uccello, che era diventato una palla di fuoco, emise un grido stridulo e un attimo dopo era scomparso, lasciando sul pavimento soltanto un mucchietto di ceneri fumanti. La porta dell'ufficio si aprì. Entrò Silente. Aveva un'aria torva. «Professore!» ansimò Harry. «Il suo uccello! Non ho potuto fare niente! Ha semplicemente preso fuoco!» Con suo grande stupore, Silente sorrise. «Era pure ora!» disse. «Erano giorni che aveva un'aria terrificante. Gliel'ho detto tante volte che doveva decidersi!» Ridacchiò di fronte all'aria attonita di Harry. «Vedi, Harry, Fox è una fenice, e le fenici, quando è arrivato il momento di morire, prendono fuoco, e poi rinascono dalle loro stesse ceneri. Sta a vedere!» Harry abbassò gli occhi appena in tempo per vedere un uccellino grinzoso, appena nato, far capolino fra la cenere. Era brutto quasi quanto quello vecchio. «Peccato che tu l'abbia visto soltanto oggi, il giorno del falò!» proseguì Silente, sedendosi dietro alla scrivania. «Per la maggior parte della sua vita è un animale veramente bello, con uno splendido piumaggio rosso e oro. Creature affascinanti, le fenici! Riescono a trasportare carichi pesantissimi, le loro lacrime hanno poteri curativi, e come animali domestici sono fedelissimi!» Lo shock dell'uccello arrosto aveva fatto dimenticare a Harry il motivo per cui si trovava lì, ma gli tornò in mente quando Silente si fu seduto sullo scranno, dietro la scrivania, fissandolo con i suoi penetranti occhi azzurri. Ma prima che il preside avesse il tempo di aprire bocca, la porta dell'ufficio si spalancò con un colpo violento e Hagrid irruppe nella stanza. Aveva lo sguardo stravolto, il passamontagna arrosolato sui capelli arruffati e il galletto morto che ancora gli pensolava tra le mani. «Non è stato, Harry, professor Silente!» proruppe. «Ci ho parlato un attimo prima che l'altro ragazzino... cioè, non poteva avere il tempo, signore!» Silente tentò di dire qualcosa, ma Hagrid continuava a sbraitare agitato, scuotendo il galletto e spargendo piume dappertutto. «Non può essere stato lui, ve lo giuro davanti al ministro della magia, se serve!» «Hagrid, io...» «Ha preso quello sbagliato, signore! Harry lo conosco io e non è capace di...» «Hagrid!» disse Silente alzando la voce. «Io non penso che Harry abbia aggredito quelle persone!» «Ah, beh!» esclamò Hagrid e il galletto gli si afflosciò lungo il fianco. «Bene, allora aspetto fuori, signor preside!» e uscì rumorosamente, imbarazzato. «Davvero lei non pensa che sia stato io, professore?» ripetè Harry col cuore che gli si riapriva alla speranza, mentre Silente toglieva penne di galletto sparse dappertutto sulla scrivania. «No, Harry, non lo penso», disse Silente, ma sul volto gli era riapparsa quell'espressione cupa. «Però voglio chiederti qualcosa!» Harry attese nervoso, mentre Silente lo squadrava, accostando le punte delle sue lunghe dita. «Devo chiederti, Harry, se c'è qualcosa di cui desideri parlarmi?» disse con voce gentile. «Di qualsiasi cosa si tratti!» Harry non sapeva cosa dire. Pensò a Malfoy, che aveva gridato «La prossima volta tocca a voi, sangue marcio!» e alla pozione polisucco, che bolliva pian piano nel bagno di mirtilla malcontenta. Poi pensò alle due volte che aveva udito la voce disincarnata e ricordò le parole di Ron. «Udire voci che nessun altro sente non è un buon segno, neanche tra i maghi!» Pensò anche a tutte le dicerie che giravano su di lui e alla sua crescente paura di avere in qualche modo a che fare con Salazar Serpeverde. «No, professore», disse. «Non ho niente da dire». Dopo il duplice attentato a Justin e a Nick quasi senza testa, quello che fino a quel momento era serpeggiato come un semplice nervosismo divenne vero e proprio panico. Strano a dirsi, quel che sembrava preoccupare di più era la sorte toccata a Nick quasi senza testa. Chi poteva fare una cosa del genere è un fantasma. Quale forza terribile aveva il potere di far del male a chi era già morto? Tutti si precipitarono a prenotare i posti sull'Hogwarts Express per tornare a casa per Natale. «Di questo passo rimarremo soli», disse Ron a Harry e a Hermione. «Noi, Malfoy, Crabbe e Goyle. Bella vacanza che ci si prepara». Infatti, anche Crabbe e Goyle, che facevano sempre tutto quel che diceva Malfoy, avevano firmato per restare in collegio durante le vacanze. Ma Harry sorrideva l'idea che la maggior parte degli studenti partisse. Era stanco di vedersi evitato quando qualcuno lo incontrava per i corridoi, come se da un momento all'altro dovesse tirar fuori le zanne o schizzare veleno. Stanco di essere chiacchierato, segnato a dito, insultato. Per Fred e George, invece, tutto questo era molto divertente. Avrebbero fatto qualsiasi cosa per precedere Harry lungo i corridoi, gridando «Fate largo all'erede di Serpeverde! Un mago davvero pericoloso e malvagio!» Percy li disapprovava con tutto il cuore. «Non c'è niente da ridere!» disse un giorno con voce sferzante. «Oh, levati di torno, Percy!» disse Fred. Harry a fretta! «Proprio così sta sgattaiolando nella camera dei segreti per prendere un tè con il suo servitore zannuto!» disse George ridacchiando. Neanche Jimmy trovava la cosa divertente. «Oh, non fate così!» gemeva quando Fred, a voce altissima, chiedeva a Harry chi fosse la prossima vittima o quando George fingeva di tenerlo lontano con un grosso spicchio d'aglio. Harry non se la prendeva. Lo confortava il pensiero che almeno Fred e George giudicassero ridicola l'idea che lui fosse l'erede di Serpeverde. Chi invece sembrava infastidito da quelle pagliacciate era Draco Malfoy, che reagiva ogni volta in maniera sempre più irritata. «È perché muore dalla voglia di dire che l'erede di Serpeverde in realtà è lui», disse Ron Astuto. «Lo sapete che non sopporta di essere secondo a nessuno, di qualsiasi cosa si tratti, e che qualcun altro si prenda il merito delle sue mascalzonate. Non durerà a lungo», disse Hermione soddisfatta. «La pozione polisucco è quasi pronta. Uno di questi giorni gli tireremo fuori la verità». Finalmente il trimestre si chiuse e sul castello scese un silenzio profondo, come quello che regnava sui campi bianchi di neve. Harry trovava confortevole e non triste quell'atmosfera e gli piaceva molto che lui, Hermione e i fratelli Weasley avessero il dominio incontrastato della torre di Grifondoro, il che significava poter giocare rumolosamente a sparaschiocco senza disturbare nessuno ed esercitarsi fra loro a duello. Fred, George e Ginny avevano preferito rimanere a scuola anziché andare a trovare Billy in Egitto con i genitori. Percy, che li disapprovava per quello che definiva un comportamento puerile, non passava molto tempo nella sala comune di Grifondoro. Aveva spiegato con gran sussiego che rimaneva a scuola per Natale soltanto perché era suo dovere di prefetto aiutare gli insegnanti in quel momento di difficoltà. L'alba del giorno di Natale si annunciò gelida e nevosa. Harry e Ron, i soli rimasti nel loro dormitorio, furono svegliati di buon'ora da Hermione, che irruppe nella stanza vestita di tutto punto, carica di regali per entrambi. «Sveglia!» disse in tono squillante, aprendo le tende delle finestre. «Ermione, non dovresti essere qui!» disse Ron, riparandosi gli occhi dalla luce. «Buon Natale anche a te!» disse Hermione, lanciandogli il suo regalo. «Io sono in piedi da quasi un'ora e sono andata ad aggiungere altre mosche crisopa alla pozione. È pronta!» Harry si mise seduto sul letto, tutta un tratto sveglissimo. «Ne sei sicura?» «Affermativo!» disse Hermione spostando crosta, il topo di Ron, in modo da potersi sedere ai piedi del letto. «Se siamo sempre decisi a farlo, io dico che dovrebbe essere per stasera!» In quel momento, Edvige entrò in volo nella stanza, portando nel becco un pacchettino. «Ciao!» la salutò Harry felice, mentre l'uccello atterrava sul suo letto. «Siamo di nuovo amici?» Edvige gli mordichiò l'orecchio in segno di affetto, e per Harry fu un regalo molto più bello di quello che lei gli aveva recapitato e che risultò provenire dai Dursley. Gli avevano mandato uno stuzzicadenti, insieme a un biglietto, in cui gli dicevano di vedere se sarebbe potuto restare a Hogwarts anche per le vacanze estive. Gli altri regali di Natale furono molto più gratificanti. Da Hagrid ricevette una grossa scatola di caramelle mu che Harry mise ad ammorbidire davanti al fuoco. Ron gli aveva regalato un libro intitolato «I Magnifici Sette», pieno di aneddoti interessanti sui cannoni di Chudley, la sua squadra del cuore. Hermione gli aveva comprato una lussuosa penna d'aquila. Nell'ultimo pacco, Harry trovò un altro dei famosi maglioni fatti a mano dalla signora Weasley e un grosso plum cake. Mentre riponeva il suo bigliettino di auguri, fu assalito di nuovo dai sensi di colpa al pensiero dell'automobile del signor Weasley, che da quando era andata a schiantarsi contro il salice schiaffeggiante non s'era più vista e di tutto quel popò di regole che lui e Ron stavano per infrangere. Nessuno, neanche chi era spaventato al pensiero di dover prendere di lì a poco la pozione polisucco, poté fare a meno di godersi il pranzo di Natale a Hogwarts. La sala grande era uno splendore. Non solo era addobbata con una dozzina di alberi di Natale, coperti di ghiaccio e con grossi festoni di agrifoglio e di vischio che andavano da una parte all'altra del soffitto, ma dall'alto fioccava anche neve magica, calda e asciutta. Silente li diresse nei cori di alcune delle sue carole preferite, mentre Hagrid, man mano che tracannava Grog, batteva il tempo sempre più freneticamente. Percy non si era accorto che Fred aveva fatto un incantesimo al suo distintivo di prefetto, su cui ora si leggeva perfetto e continuava a chiedere che avessero tanto da ridere. Dalla tavola dei Serpeverde Draco Malfoi con voce stentorea faceva commenti maligni sul maglione nuovo di Harry, ma lui lo ignorava. Con un po' di fortuna di lì a poche ore lo avrebbe sistemato a dovere. Harry e Ron avevano appena spazzolato la terza porzione di pudding di Natale che già Hermione li spingeva fuori della sala per finire di mettere a punto il piano per quella sera. «Dobbiamo ancora procurarci un pezzetto delle persone nelle quali dobbiamo trasformarci», disse in tono molto pratico, come se li stesse mandando al supermercato a comprare detersivo per i piatti. «Naturalmente il massimo sarebbe che riusciste a procurarvi qualcosa di Crabbe e Goyle. Sono i migliori amici di Malfoy e lui con loro vuoterà il sacco. E poi c'è da accertarsi che i veri Crabbe e Goyle non spuntino come funghi mentre noi stiamo facendo il terzo grado al loro capo». «Ho pensato a tutto», proseguì senza riprendere fiato, ignorando le facce sbigottite di Harry e Ron. Mostrò loro due soffici pasticcini al cioccolato. «Li ho riempiti di una semplice pozione soporifera. Basta fare in modo che Crabbe e Goyle li trovino. Lo sapete quanto sono golosi, non resisteranno e li mangeranno di certo. Una volta che si saranno addormentati, strappategli alcuni capelli e nascondeteli in un ripostiglio». Harry e Ron si scambiarono un'occhiata incredula. «Ermione, non credo proprio, potrebbe finire molto male». Ma la ragazza lo zittì con un'occhiata gelida, molto simile a quelle della professoressa McGonagall. «La pozione sarebbe inutile senza i capelli di Crabbe e Goyle», disse in tono perentorio. «Voi volete interrogare Malfoy, vero?» «Va bene, va bene», disse Harry. «Ma tu, a chi li strappi i capelli?» «Io ho già quel che mi serve», disse Ermione animandosi e estraendo dalla tasca una bottiglietta con un unico capello dentro. «Vi ricordate Millicent Balstrod con cui mi sono accapigliata al club dei duellanti?» «Quando stava cercando di strangolarmi, mi ha lasciato questo sul vestito. Lei è andata a casa per Natale, ma basterà che io dica i serpeverde che ho deciso di tornare». Quando Ermione si fu allontanata per controllare ancora una volta la pozione polisucco, Ron guardò Harry con aria rassegnata. «Hai mai visto un piano con così tante cose che possono andare storte?» Ma con grande sorpresa di Harry e Ron la fase numero uno dell'operazione andò liscia come Ermione aveva previsto. Dopo il tè si attardarono nella sala d'ingresso deserta in attesa di Crabbe e Goyle che rimasti soli al tavolo dei serpeverde si stavano rimpinzando di una quarta porzione di zuppa inglese. Harry aveva appoggiato i pasticcini al cioccolato sulla balaustra delle scale. Quando videro Crabbe e Goyle uscire dalla sala grande Harry e Ron si nascosero in fretta dietro a un'armatura accanto al portone principale. «Ma si può essere così idioti?» bisbigliò Ron in tono estatico quando Crabbe indicò allegramente a Goyle i pasticcini e li afferrò. Ridendo come due ebeti fecero sparire i dolci in un sol boccone. Per un attimo masticarono ingordamente con aria di trionfo. Poi senza cambiare espressione andarono giù come birilli. La parte più complicata fu nasconderli dentro il ripostiglio dalla parte opposta della stanza. Poi una volta che li ebbero messi al sicuro tra secchi e stracci Harry strappò un paio di peli dalle irsute sopracciglia di Goyle e Ron strappò alcuni capelli a Crabbe. Gli portarono via anche le scarpe perché le loro erano troppo piccole per i piedi di quella misura. Poi ancora esterrefatti per quel che erano riusciti a fare si affrettarono a raggiungere il bagno di mirtilla malcontenta. Ci si vedeva a malapena per via del denso fumo nero che usciva dal gabinetto dove Hermione stava rimestando la pozione. Coprendosi la faccia con i vestiti Harry e Ron bussarono discretamente alla porta. Hermione udirono stridere il chiavistello e la ragazza uscì la faccia lucida e lo sguardo ansioso. Dietro di lei si sentiva il blop blop della pozione che sobolliva. Sul sedile della tazza erano pronti tre bicchieri di vetro. Li avete presi? chiese Hermione in un soffio. Harry le mostrò i peli di Goyle. Bene e io ho trafugato questi abiti di ricambio dalla lavanderia disse Hermione indicando un sacchetto. Una volta che sarete diventati Crabbe e Goyle avrete bisogno di taglie più grandi. Tutti e tre guardarono dentro al calderone. Vista da vicino la pozione sembrava una fanghiglia densa e scura. Sono sicura di aver fatto tutto a dovere disse nervosamente Hermione scorrendo ancora una volta la pagina impataccata del De potentissimi Pozionibus. Mi sembra che il libro dica che dopo averla bevuta avremo esattamente un'ora prima di riprendere le nostre sembianze. E adesso che si fa? Sussurrò Ron La versiamo nei bicchieri e poi ci mettiamo i capelli dentro. Hermione versò alcune cucchiaiate in ogni bicchiere e nel primo con mano tremante lasciò cadere il capello di Millicent Barstrod. Dalla pozione venne un sibilo come di un bollitore poi si formò una schiuma abbondante. Un attimo dopo l'intruglio aveva assunto un color giallo vomito. Beah essenza di Millicent Barstrod disse Ron guardandola con ripugnanza scommetto che è disgustosa su mettete dentro i capelli gli esortò Hermione. Harry lasciò cadere il pelo di Goyle nel bicchiere di mezzo e Ron il capello di Krebs nell'ultimo. In entrambi la pozione cominciò a similare e schiumare quella di Goyle assunse il color kaki tipico delle caccole mentre quella di Krebs divenne marrone scuro. Aspettate un attimo disse Harry mentre Ron e Hermione allungavano la mano verso i loro bicchieri è meglio che non la beviamo qua dentro appena ci saremo trasformati non ci staremo più anche Millicent Barstrod non è un cosino da niente. Ben detto disse Ron aprendo la porta andiamo ognuno in un gabinetto attento a non versarne neanche una goccia Harry si infilò in quello di mezzo Pronti? chiese Harry Pronti risposero all'unisono le voci di Ron e Hermione uno due tre tappandosi il naso Harry beve la pozione in due grossi sorsi sapeva di cavolo stracotto immediatamente sentì torcersi le budella come se avesse inghiottito dei serpenti vivi piegato in due si chiedeva quando avrebbe vomitato poi si sentì bruciare tutto dallo stomaco fino alla punta delle dita delle mani e dei piedi un attimo dopo era a quattro zampe con l'orribile sensazione di sciogliersi come se tutta la pelle fosse fatta di cera bollente sotto ai suoi occhi le mani gli crebbero le dita si ingrossarono le unghie si allargarono e le nocche si gonfiarono come bulloni le spalle gli si stirarono dolorosamente e dal prurito sulla fronte capì che i capelli gli stavano crescendo quasi attaccati alle sopracciglia il torace gli si allargò come un barile a cui saltassero i cerchioni gli abiti si strapparono aveva i piedi doloranti per via delle scarpe che erano di quattro misure più piccole così come era iniziato tutto cessò di colpo Harry era disteso faccia a terra sul freddo pavimento di pietra e sentiva il cupo gorgogliare di mirtilla provenire dal gabinetto in fondo si tolse le scarpe con difficoltà e si alzò in piedi dunque ecco come ci si sentiva nei panni di Goyle con la grossa mano tremante si tolse i calzoni che gli arrivavano due palmi sopra le caviglie si infilò quelli nuovi e si allacciò le scarpe di Goyle che sembravano due barche fece per togliersi i capelli dagli occhi ma sentì soltanto peli ispidi e corti che gli crescevano lungo la bassa attaccatura della fronte poi si rese conto che gli occhiali gli davano fastidio perché ovviamente Goyle non ne aveva bisogno se li tolse e chiese tutto bene voi due con la voce bassa e gracchiante di Goyle si gli rispose da destra il grugnito di Krabb Harry aprì la porta e andò a guardarsi allo specchio incrinato Goyle lo fissava con occhi ottusi e infossati Harry si grattò l'orecchio così faceva Goyle si aprì la porta di Ron i due ragazzi si fissarono a parte il pallore e l'aria stravolta Ron non si sarebbe potuto distinguere da Krabb tutto era identico a lui dal taglio dei capelli a spodella alle braccia da Gorilla è incredibile esclamò Ron avvicinandosi allo specchio e grattando il naso piatto di Krabb incredibile è meglio che ci avviamo disse Harry allentando il cinturino dell'orologio che gli stava segando il grosso polso da Goyle dobbiamo ancora scoprire dov'è la sala comune dei serpeverde speriamo soltanto di incontrare qualcuno da seguire Ron che era rimasto a fissare Harry disse non sai quanto sia strano vedere Goyle che pensa bussò alla porta di Ermione svelta dobbiamo andare una vocetta stridula gli rispose io non credo che verrò dopo tutto andate senza di me Ermione lo sappiamo che Millicent Balstrod è brutta ma nessuno saprà che sei tu no veramente non penso che verrò sbrigatevi state perdendo tempo Harry fissò Ron strabiliato ecco così sei proprio Goyle osservò Ron questa è la sua faccia ogni volta che un insegnante gli fa una domanda Ermione stai bene? chiese Harry da dietro la porta bene sto bene andate Harry guardò l'ora cinque dei loro sessanta preziosi minuti erano già passati ci ritroviamo qui d'accordo? chiese Harry e Ron aprirono con cautela la porta del bagno controllarono che non ci fosse nessuno e si avviarono non dondolare le braccia a quel modo bisbigliò Harry a Ron eh? crebbe le tiene rigide va bene così? sì così va meglio scesero le scale di marmo ora l'unica cosa di cui avevano bisogno era incontrare un serpe verde da seguire fino alla loro sala comune ma in giro non si vedeva nessuno ti viene in mente un'idea? bisbigliò Harry la mattina i serpe verde arrivano sempre da lì disse Ron indicando l'ingresso ai sotterranei aveva appena finito di parlare che una ragazza dai lunghi capelli ricci apparve dalla porta d'ingresso scusa disse Ron avvicinandosi di corsa abbiamo dimenticato come si fa per raggiungere la nostra sala comune prego chiese la ragazza tutta rigida la nostra sala comune ma io sono di corvo nero e si allontanò gettando gli occhiate sospettose Harry e Ron scesero di corsa alla scala di pietra e si trovarono immersi nell'oscurità i loro passi erano particolarmente rumorosi perché i grossi piedi di Kreb e Goyle pestavano pesantemente il pavimento i due ragazzi cominciarono a pensare che la cosa non sarebbe stata poi così facile come avevano sperato i passaggi labirintici erano deserti continuarono a scendere sempre più giù nei sotterranei della scuola controllando l'ora per vedere quanto tempo gli restava dopo un quarto d'ora mentre stavano per perdere le speranze ad un tratto udirono qualcuno muoversi davanti a loro ah esclamò Ron tutto eccitato eccone uno videro una figura uscire da una stanza laterale ma avvicinandosi ebbero un tuffo al cuore non era un serpe verde era Persi e tu cosa ci fai quaggiù chiese Ron sorpreso Persi fece l'aria contrariata questi disse tutto impettito non sono affari che vi riguardano sei crab vero oh sì disse Ron bene allora tornatene al tuo dormitorio intimò Persi severo è pericoloso di questi tempi andarsene in giro al buio per i corridoi ma tu lo fai però rimbeccò Ron io disse Persi dandosi un contegno sono un prefetto nessuno aggredirà me d'un tratto sentirono una voce dietro di loro Draco Malfoy si stava avvicinando fu la prima volta in vita sua che Harry fu lieto di vederlo ah eccovi disse con voce strascicata guardandoli siete stati tutto questo tempo a rimpinzarvi nella sala grande vi ho cercato dappertutto voglio farvi vedere una cosa veramente divertente poi lanciò un'occhiata raggelante a Persi e tu che cosa ci fai quaggiù Weasley ghignò Persi era indignato dovresti avere un po' più di rispetto per un prefetto della scuola disse non mi piace il tuo atteggiamento Malfoy ridacchiò e intimò a Harry e Ron di seguirlo Harry stava per scusarsi con Persi ma si riprese appena in tempo insieme a Ron si affrettò a seguire Malfoy il quale non appena ebbero svoltato per un altro corridoio commentò quel Peter Weasley Persi lo corresse Ron senza pensarci oh come diavolo si chiama disse Malfoy ho notato che ultimamente se ne va in giro con aria equivoca e scommetto di sapere cosa ha in testa pensa di riuscire a scovare da solo l'erede di Serpeverde fece una breve risata di scherno Harry e Ron si scambiarono occhiate cariche di eccitazione Malfoy si fermò davanti a un tratto di muro di pietra squaldido e umido qual è la nuova parola d'ordine chiese a Harry fece lui ah si puro sangue disse Malfoy senza ascoltarlo e una porta di pietra scorrevole nascosta nella parete si aprì Malfoy la superò seguito da Ron e Harry la sala comune di Serpeverde era un sotterraneo lungo e basso con le pareti e il soffitto di pietra da cui appese a delle catene pendevano lampade rotonde e verdastre di fronte a loro in un camino dalle sculture elaborate scoppiettava un fuoco contro cui si stagliava il profilo di altri Serpeverde seduti tutti intorno su sedie scolpite aspettatemi qui disse Malfoy a Harry e Ron spingendoli verso due sedie vuote lontane dal fuoco vado a prenderlo mio padre me l'ha appena mandato Harry e Ron si sedettero facendo di tutto per sembrare a proprio agio un attimo dopo Malfoy fu di ritorno con un ritaglio di giornale lo mise sotto il naso di Ron questo ti piacerà disse Harry vide Ron sbarrare gli occhi l'esse velocemente scoppiò in una risata molto forzata e passò il trafiletto a Harry era stato ritagliato dalla gazzetta del profeta e diceva così inchiesta al ministero della magia Arthur Weasley direttore dell'ufficio per l'uso improprio dei manufatti dei babbani ha ricevuto oggi una multa di 50 galeoni per aver stregato un'automobile babbana Lucius Malfoy membro del consiglio della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts dove l'automobile stregata si è schiantata all'inizio di quest'anno ha chiesto le dimissioni del signor Weasley Weasley ha gettato discredito sul ministero ha detto il signor Malfoy al nostro inviato è evidente che egli non è la persona adatta a far rispettare le nostre leggi e il suo ridicolo progetto di legge per la protezione dei babbani va immediatamente accantonato non siamo riusciti a raccogliere il commento del signor Weasley ma sua moglie ha intimato ai giornalisti di togliersi dai piedi minacciando di sguinsagliare il gul di famiglia beh chiese Malfoy con impazienza quando Harry gli ebbe restituito il foglio non è buffo molto buffo rispose Harry tetro Arthur Weasley ama tanto i babbani che dovrebbe buttare alle ortiche la bacchetta e andarsene a vivere con loro disse Malfoy con tono sprezzante da come si comportano non si direbbe mai che i Weasley siano dei puro sangue la faccia di Ron o meglio di Kreb era contratta per la rabbia che cosa ti prende Kreb sbottò Malfoy mal di stomaco grugnì lui beh vattene in infermeria e dai un calcio da parte mia a tutti quei sangue marcio disse Malfoy con un ghigno strano che la gazzetta del profeta non abbia ancora dato notizia di tutti questi attentati proseguì pensieroso immagino che Silente stia cercando di mettere tutto a tacere se la cosa non finisce presto gli daranno il ben servito mio padre dice sempre che Silente è la peggior disgrazia che sia mai capitata a questo posto perché adora i nati babbani un preside decente non avrebbe mai dovuto ammettere un rifiuto della società come quel Crivei e Malfoy cominciò a scattare foto con un'immaginaria macchina fotografica in una replica di Colin crudele ma perfetta potter posso avere una tua foto potter mi fa un autografo per favore posso lecarti le scarpe potter abbassò le braccia e fissò Harry e Ron si può sapere cosa avete voi due la risata forzata di Harry e Ron arrivò in ritardo ma Malfoy sembrò soddisfatto probabilmente Crabbe e Goyle non erano di quelli che capivano al volo Sam Potter l'amico dei sangue marcio scandì lentamente Malfoy lui è un altro che non ci tiene al buon nome di mago altrimenti non se ne andrebbe sempre in giro con quella presuntuosa sangue marcio della Granger e pensare che la gente crede che l'erede di Serpeverde sia lui Harry e Ron rimasero in attesa trattenendo il fiato di certo Malfoy stava per dirgli che l'erede di Serpeverde era lui e invece quanto mi piacerebbe sapere chi è proseguì Malfoy con aria petulante potrei dargli una mano a Ron la mascella si affrosciò così tanto che la faccia di Crabbe sembrò ancor più ebete del solito per fortuna Malfoy non ci fece caso Harry cercando freneticamente di farsi venire in mente qualcosa disse ma tu avrai sicuramente un'idea di chi c'è dietro a tutto questo lo sai che non ce l'ho Goyle quante volte te lo devo ripetere sbottò Malfoy e mio padre non vuole dirmi niente sull'ultima volta che la camera è stata aperta certo è successo cinquant'anni fa e quindi prima che lui fosse a Hogwarts ma conosce la storia nei minimi particolari e dice che fu messo tutto a tacere per cui se io ne sapessi troppo apparirebbe sospetto una cosa però la so l'ultima volta che la camera dei segreti è stata aperta un sangue marcio è morto perciò scommetto che è soltanto questione di tempo anche questa volta uno di loro ci rimetterà la pelle spero proprio che sia la Granger concluse tutto soddisfatto Ron stringeva i pugni giganteschi di Kreb rendendosi conto che se avesse mollato un cazzotto a Malfoy si sarebbero immancabilmente traditi Harry fulminò l'amico con un'occhiata e chiese ma quello che ha aperto la camera l'hanno preso oh sì chiunque sia stato fu espulso disse Malfoy probabilmente ancora ad Azkaban Azkaban ripete Harry perplesso sì Azkaban la prigione dei maghi Goyle disse Malfoy fissandolo incredulo parola mia Goyle se tu fossi appena un po' più lento andresti all'indietro si agitò sulla sedia e poi aggiunse mio padre mi dice di non immischiarmi e di lasciare che l'erede di Serpeverde prosegua il suo lavoro dice che la scuola deve essere liberata da tutti quegli sporchi sangue marcio ma che io non me ne devo impicciare naturalmente in questo momento lui ha ben altro da fare lo sapete che il ministero della magia ha perquisito il nostro castello la settimana scorsa Harry cercò di fare assumere al viso ebete di Goyle un'espressione preoccupata proprio così riprese Malfoy per fortuna non hanno trovato granché mio padre possiede alcuni preziosi artefatti oscuri ma per fortuna anche noi abbiamo la nostra camera segreta sotto il pavimento del salotto ha ha esclamò Ron Malfoy lo fissò e altrettanto fece Harry Ron arrossì anche i capelli gli stavano tornando rossi e anche il naso pian piano gli si stava allungando l'ora era scaduta Ron stava ridiventando Ron e dall'occhiata inorridita che lanciò a Harry anche a lui stava capitando la stessa cosa entrambi scattarono in piedi presto una medicina per il mal di stomaco grugnì Ron e senza altre storie attraversarono di corsa la sala comune di serpe verde si lanciarono contro la parete di pietra e attraversarono il passaggio segreto sperando ardentemente che Malfoy non si fosse accorto di nulla Harry rimpiccioliva e sentiva i piedi navigare dentro le enormi scarpe di Goyle e i vestiti ballarghe addosso fecero di volata le scale verso la sala d'ingresso che era avvolta nell'oscurità dal ripostiglio dove erano rinchiusi crebbe Goyle provenivano dei colpi soffocati lasciarono le scarpe fuori dallo stanzino e con i soli calzini ai piedi fecero di corsa la scalinata di marmo dritti al bagno di mirtilla malcontenta beh non è stato tutto tempo perso ansimò Ron chiudendosi la porta del bagno alle spalle va bene che non abbiamo ancora scoperto chi è l'autore degli attentati ma domani scrivo a mio padre per dirgli di andare a dare un'occhiatina sotto il salotto dei Malfoy Harry andò a controllare la propria faccia sullo specchio inclinato era tornato normale inforcò gli occhiali mentre Ron bussava alla porta del gabinetto di Hermione Hermione vieni fuori abbiamo un sacco di cose da dirti andate via strillò Hermione Harry e Ron si scambiarono un'occhiata ma che diavolo è successo chiese Ron ormai dovresti essere tornata normale anche tu noi siamo in quel momento mirtilla malcontenta sgattaiolò fuori dal suo cubicolo Harry non l'aveva mai vista così felice oh aspettate di vederla esclamò è bruttissima sentirono scorrere il chiavistello e Hermione apparve in lacrime coprendosi la testa con gli abiti che cosa è successo chiese Ron incerto che è rimasto il naso di Millicent o cosa Hermione si fece scivolare i vestiti dalla testa e Ron arretrò fino al lavabo la faccia di Hermione era tutta coperta di pelo nero gli occhi erano diventati gialli e tra i capelli facevano capolino due orecchiette a punta era un pelo di gatto gemette Millicent Balstrod deve avere un gatto e la pozione non può essere usata per trasformarsi in un animale oh oh disse Ron ti prenderanno in giro da morire commentò Mirtilla tutta felice non ti preoccupare Hermione tagliò corto Henry ora ti portiamo in infermeria Madame Pomfrey non fa mai troppe domande ci volle un bel po' per convincere Hermione a uscire dal bagno Mirtilla malcontenta li inseguì ridendo come una matta ora vedrai quando tutti si accorgeranno che hai la coda aah